vieni qua ciccio è una frase tra l'altro che lui disse a Marlon Garnett non so se ve lo ricordate un giocatore americano che non stava giocando un giocatore molto forte uno di quei giocatori che oggi sposterebbero molti equilibri che non stava giocando tanto bene insomma l'avevamo anche noi della stampa messo in discussione e lui quella sera lo incrociò chiese prima al Diego conferma se effettivamente fosse lui Garnett le che è lì Garnett allora va lì e dice vieni qua ciccio e gli dà due baci sulle guance che per un americano questo contatto fisico era qualcosa di assolutamente inaudito, inaccettabile per cui Garnett rimase spiazzato da questo moto di umanità del Gianfranco che era così con tutti era così con tutti grazie a tutti Grazie.